Proventi illesciti per circa 2 milioni di euro. Un truffatore e tre presunti usurai sono stati scoperti dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Le verifiche dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economica o Finanziaria Etneo hanno avuto l'obiettivo di misurare ogni forma di reale capacità contributiva compresa quella derivante da attività illescite come l'erogazione di prestiti a tassi usurai o le truffe a danni di cittadini. I controlli hanno permesso di recuperare la tassazione di un'imposta evasa ammontante a quasi 800 mila euro e uno dei soggetti verificati è stato anche denunciato alla Procura per aver omesso di presentare il modello dichiarativo dei redditi.